Io prima di iniziare voglio ringraziare il Secretario comunale che ancora una volta ci ha dato lezione di come dovremmo comportarci e anche per il tuo valere che mi ha dato, anche perché non era dovuto, ha per relazione dell'articolo 178-2000 e dell'evento 259-2010 Vedete, io mi domando, messa ancora a questa persona che siamo i studenti, che sono i studenti, e stiamo dalle 5, dalle 3, a loro in me stanno andando in questa situazione dei vari articoli, l'epottibile che contare un parente di lavoro, no? Questa è una prima deludica, abbiamo risposto di questo Chiamano i studenti che non è l'altro, ma prima del pregna fine che dovremmo avere votato il piano Chiamano i studenti, e dico, perché non è evottibile che chi è che si mette indietro a queste cose, anche se non ha stato giudiziazza come me noi abbiamo degli occhi all'interiore che vogliamo rivolgerci e chi è che non deve essere Sta spenta, sta spenta Senza, il modo che si mette indietro a queste cose, non ci può dire niente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti